Musica Weeey, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio parlare con voi di 8 cambiamenti incredibili del nuovo Fortnite Un micro aggiornamento che è stato fatto ragazzi e che ha portato con sé alcune modifiche Implementandosi a quelle che già abbiamo visto, forse non tutte, nel dettaglio che questo Fortnite ha portato Un evento ragazzi che non mi stancherò mai di dirvi incredibile, allucinante, ha davvero portato con sé delle novità pazzesche E ovviamente oggi non è che vi parlerò ragazzi dei mostri del cubo o vi parlerò della terza parte delle sfide dell'incubo No no ragazzi, queste le sappiamo Oggi vi parlerò di alcune modifiche che sono state fatte alla tempesta Di alcuni segreti nascosti nella mappa e ovviamente ragazzi vedremo tanti dettagli relativi alle armi ragazzi Quindi un sacco di cose interessanti di cui rendervi ovviamente partecipi Vi faccio subito ragazzi però prima di cominciare la mia domanda Sapete che ci tengo tantissimo a leggere i vostri commenti dove mi rispondete ed è molto semplice Preferite il Fortnite del 2017 o del 2018? Ditevelo ragazzi, personalmente io preferisco quello di quest'anno Anche se ho visto anche quello dell'anno scorso ma questo è veramente, veramente incredibile Quindi ragazzi mi raccomando non vi dimenticate di lasciare un bel like se vi sta piacendo questo video Se volete aiutare il mio canale a crescere ragazzi Un super like, iscrivetevi in tantissimi e ovviamente attivate la campanella Quindi ragazzi cominciamo parlando proprio delle modifiche alla tempesta Ci sono delle grandissime modifiche ragazzi Se vogliamo vederle nel dettaglio i danni massimi della tempesta adesso sono stati ridotti da 10 a 8 Cosa vuol dire? Vuol dire che quando arriviamo all'ultimo cerchio della tempesta Se per caso entriamo appunto nella tempesta non subiamo più 10 danni al secondo ma ne subiamo 8 Questo si riassume dicendo che potenzialmente riusciremo a resistere un pochettino di più Qualora dovessimo finirci dentro rispetto a prima Ma hanno modificato una cosa incredibile ragazzi E l'abbiamo visto per la prima volta, l'ho visto ieri al Fall Skirmish L'evento che stanno facendo dopo il Summer Skirmish Da adesso ragazzi l'ultimo cerchio della tempesta non si ferma più Questo vuol dire che non c'è più il tempo di attesa quando il cerchio è piccolino Quindi continua a muoversi e questo è fantastico perché proprio non lascia un attimo di pausa Per i giocatori che sono arrivati fino alla fine Modifichi anche ragazzi per i tempi in cui c'è da attendere tra un cerchio e l'altro Alla fase 3 viene ridotto il tempo da 120 secondi a 90 e alla fase 5 da 70 a 30 Quindi ragazzi vogliono proprio sbrigarsela e chiudere le partite velocemente Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo invece del parco giochi Quindi tante modifiche anche in questo parco giochi che lo stanno davvero migliorando notevolmente È un sintomo ovviamente che vogliono tenerlo come modalità fissa nel gioco Quindi è un gioco nel gioco Abbiamo già visto ovviamente ragazzi nel video dell'altro ieri i 15 minigiochi che hanno inserito Vi invito ad andare a dargli un'occhiata Lo trovate ovviamente in descrizione Ma ragazzi da adesso in parco giochi hanno aggiunto dei nuovi distributori sparsi in giro per la mappa Anche a blocchi di 2 o di 3 vicini Che a costo 0 ci regaleranno delle armi, degli oggetti Ad esempio abbiamo visto che c'era, possiamo mi sembra trovare addirittura il bolt leggendario Di certo troviamo i bumper, i bouncer in poche parole E tante cose che magari c'è anche la mitraglia silenziata Mi sembra di aver visto, diciamo, ottenuto alcune armi solo in parco giochi Questo ragazzi migliora tantissimo il parco giochi e le partite contro i nostri amici Perché è molto più veloce, molto più close si dice in inglese Ovviamente non ci obbliga più ad andare a cercare gli airdrop per delle armi extra E ovviamente ogni distributore è ovviamente a costo 0 Io credo ragazzi che anche se nei distributori possiamo continuare a trovare anche le armi esplosive A me mancherà tantissimo il lanciazucche quando finirà l'evento di Halloween Mi dispiace ma io amo e ho sempre amato il lanciazucche al di sopra di ogni altra cosa Quindi speriamo che succederà, che rimarrà Ma ovviamente sappiamo che non è possibile Quindi godiamocelo, godiamocelo, godiamocelo perché è meraviglioso ragazzi E andiamo avanti parlando del parco giochi Perché da adesso ragazzi se apriamo il menu durante una partita di parco giochi Apparirà una nuova opzione che si chiama respawn Ne avevamo parlato nel video di ieri ma non avevo ancora visto come funzionava Ecco da adesso ragazzi possiamo tranquillamente cliccarla per respawnare nella mappa Quando vogliamo quindi ovviamente veniamo automaticamente killati E ripartiamo nel cielo dove possiamo aprire quindi il paracadute per atterrare dove preferiamo La domanda che mi faccio è, secondo voi a cosa è stata, perché hanno inserito la modalità respawn in parco giochi? Io ho pensato che possa essere per muoversi velocemente tra una location e l'altra Ma se a voi viene in mente qualcosa magari scrivetemelo sempre qua sotto Che ne so, magari qualcosa che a me è sfuggito Ma ovviamente ragazzi parliamo dei cambiamenti alla mappa Del cambiamento più importante che è stato fatto alla mappa Abbiamo visto come tutto il mese di ottobre E anche se non ricordo male la fine di settembre La mappa è cambiata e si è addobbata proprio ad Halloween Quindi zucche, fantasmi, decorazioni, i lama, quelli gonfiabili che fanno Un sacco di cose divertentissime ma ragazzi la location che ha subito delle modifiche principali E ovviamente lande letali Se atteriamo ragazzi su lande letali già dall'alto Vediamo come i campi di grano sono stati trasformati in facce da zucca Molto molto interessante Possiamo trovare dentro dei mini cimiteri Addirittura un orso che sembra un orso zombie che esce dal cimitero Degli spaventapasseri in posizioni abbastanza preoccupanti Ci tengono la mano alcuni intorno all'orso Modifiche anche ragazzi per il granaio In poche parole lande letali è diventato un museo di Halloween a cielo aperto Abbiamo visto anche che ci sono i due ingressi adesso Quindi quella specie di come dire mini portoni di legno Che sopra tra l'altro hanno nascosto dei chest Che danno proprio l'accesso a lande letali Quindi modifiche anche per il granaio come vi dicevo Dove è stata riprodotta una specie di miniera fantasma Con tante decorazioni di Halloween I fantasmi, il cimitero, i colori verdi Insomma tanta roba le ragnatele Modifiche anche alla casa che è diventata una casa dell'orrore Come vedete ci sono orsi a profusione Orsi seduti, orsi ribaltati Orsi che hanno la zucca in testa Orsi nascosti dietro le porte Insomma ragazzi tanta tanta roba Ovviamente vi invito a guardarla con calma Perché merita davvero tantissimo il lavoro Che hanno fatto gli sviluppatori di Epic Games Intendo tutta l'ande letali Ma andiamo avanti ragazzi Molto velocemente parliamo di un oggetto Di due oggetti tornati in game ragazzi L'avevamo già visto nella scorsa patch Che erano stati rimossi Perché avevano dei bug Con questa patch è tornato il fortatile gigante Quindi quello leggendario ragazzi Benissimo Che avevano ridotto il drop rate Già nello scorso aggiornamento Quindi è più faticoso trovarlo Detto proprio in soldoni Ma c'è un grande ritorno Ragazzi torna il missile guidato Quindi amanti del missile guidate Yeah è tornato A me personalmente non piace più Come quando era ad aprile Preferisco il lanciazook Ad esempio O l'RPG O comunque il lanciagranate Diciamo gli altri esplosivi Diciamo che se trovo per terra le granate E il mincile E il missile guidato Prendo le granate Sinceramente è troppo nerfato Ma prima era troppo OP Quindi devono davvero trovare Un bel bilanciamento Prima c'era il problema Che quando sparavi Rischiavi di killarti da solo Perché boh Ti tornava indietro il rocket Qualche ostiata del genere Quindi missile guidato Che ritorna Modifica ragazzi Invece alle armi Proprio Forse non tutti sanno Che è stata fatta Una modifica incredibile Alla deagle ragazzi Sia nella versione epica Che nella versione leggendaria Hanno addirittura Aumentato il range Della deagle E il danno Quindi veramente potenziata A livelli estremi Guardiamo un attimo Nel dettaglio Quindi aumentato il danno Nel corto medio raggio Della deagle Sia epica Che leggendaria Con un danno Da 30 a 50 E alla testa Da 60 a 100 Per la versione Epica Mentre per la versione Legendaria Da 62 a 104 E Quello alla testa Il danno Della testa Da 60 a 100 L'avranno portato A 110 112 Indicativamente Ballava di 10 danni Da una e l'altra Ma la cosa più incredibile È che hanno modificato Il danno Della deagle Alle strutture Cosa vuol dire? Vuol dire ragazzi Che adesso Una Un colpo di deagle Sparato su una struttura Dalla versione epica Da 79 Che toglieva prima Toglie 150 Quindi quasi No Raddoppiato quasi E nella versione leggendaria Da 83 A 157 Cosa vuol dire? Vuol dire ragazzi Tenetevi una deagle Perché con due colpi di deagle Si tira giù Un muro di legno Ed è Una roba Incredibile Deagle deagle pompa In poca Deagle deagle pomp Deagle deagle pomp Ragazzi Veramente incredibile Queste modifiche Alla deagle Avanti ancora invece Parliamo della percentuale Di Trovamento Della percentuale Di trovare Delle armi esplosive Nel gioco Modificata completamente Per tutti gli esplosivi Quasi tutto Parliamo subito Delle lanciagranate Delle granate scorengia E dell'RPG Ragazzi Il drop a terra Per le granate scorengia È stato aumentato Da 0,27 A 0,47 Stavano delle puzzolenti Ovviamente Mentre nei chest Nei drop normali Quindi Nelle casse Da 2,37 A 4,08 Quindi Molta più chance Di trovare Le granate puzzolenti Mentre ragazzi Hanno diminuito La possibilità Di trovare Il lanciagranate Da 1,35 Per cento A 0,91 Per cento È aumentato Il La chance Di trovare Un RPG Da 0,83 Per cento A 1,12 Chiudo semplicemente Dicendovi Una modifica Incredibile Che hanno fatto Nelle duo E nelle squad Ragazzi Ed è una modifica Relativa al momento In cui si viene Noccati Prima ragazzi Quando andavamo giù Perdevamo Un punto salute Al secondo Adesso ragazzi Raddoppiato Due punti salute Persi al secondo Cosa vuol dire Che abbiamo 50 secondi Per restare Il nostro compagno Di squadra Quindi ragazzi Ci sta Mi piace Questo aggiornamento Mi piace Beh ragazzi Oggi è veramente tutto Io vi ringrazio tantissimo Per avere guardato Il video Mi raccomando Un bel pollicione in su Se ancora non lo avete fatto Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Noi ci vediamo presto Ciao Noi ci vediamo 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 Grazie.